Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi torniamo sul canale, parliamo di Thailandia, parliamo di un argomento per il quale ho ricevuto diversi messaggi. Alcuni di voi stanno pensando di partire per la Thailandia per il Natale e stavano appunto cercando una soluzione, diciamo, super last minute per cercare di capire quanto può costare in questo momento un viaggio. Mi avete chiesto qualche consiglio, in realtà non c'è che io ho dei grandissimi consigli, ma oggi andiamo a vedere nel video appunto quanto costa in questo momento un volo per la Thailandia per quanto riguarda il periodo appunto di Natale, insomma, fino all'Epifania. Come sempre ragazzi, prima di cominciare il video, questa è la playlist Thailandia del mio canale YouTube. Mi raccomando, se vi interessa il contenuto, insomma, il topic del canale, iscrivetevi al canale e lasciate anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Ora, come sempre, sigla e poi cominciamo. Andiamo quindi sulla pagina di Google Flights, che è il sito che consiglio se cercate dei voli. Ovviamente mettiamo da Milano a Bangkok, per quanto riguarda la partenza mettiamo venerdì 22 dicembre, facciamo la simulazione, quella più importante, e il rientro domenica 7 gennaio, quindi come date, diciamo, le principali per quanto riguarda le festività natalizie. Ovviamente facciamo cerca e aspettiamo che vediamo i risultati. Per quanto riguarda gli scali, metterei al massimo uno scalo. Vediamo cosa ci offre in questo momento la soluzione. Andiamo a vedere il livello di griglia, però forse è meglio vederlo prima così. E vediamo, insomma, che di soluzioni non ce ne sono tantissime. Vediamo questo EVA Air con scalo a Taiwan, Taipei, poi abbiamo un Air India e un volo della Emirates. Ecco, vedete che la soluzione all'ingresso, con uno scalo di 1 ora e 45 a Taipei, costa 1.602 euro. Ricordo che avevamo fatto la stessa simulazione poi l'anno scorso e in questo momento i voli erano ampiamente sopra i 2.500 euro. Diciamo che i prezzi quest'anno sicuramente si sono dati una netta dimensionata. Per valutare poi il livello dei prezzi c'è sempre lo strumento di Google Flights che vedete che mostra. Al momento i prezzi sono alti, si apre questo cruscottino e ti fa vedere come, insomma, siamo in una fascia più alta rispetto al, diciamo, livello medio che era fissato a 1.450 euro. E vedete, insomma, che negli ultimi giorni, insomma, questi prezzi si sono aumentati. Probabilmente se lo si avesse comprato qualche giorno fa si poteva ancora strappare un prezzo intorno ai 1.200 euro che per essere poi un last minute per la Thailandia, per il periodo di Natale, è sicuramente un'ottima opportunità. Vedete poi che di altre opportunità per quanto riguarda i biglietti ce ne sono altri. C'è Austin Airlines 1.800, insomma, poi qui si sfora, si buca la soglia di 2.000 euro. C'è addirittura un Qatar Airways che arriva a 2.427, Oman Air 2.169, insomma, sopra 2.000 euro c'è tanto, però, insomma, abbiamo visto che questo EVA Air con un comodo, se vogliamo, scalo di circa due orette a Taiwan, 1.300 euro potrebbe essere anche una buona soluzione, tutto sommato, ripeto, considerando il momento. Quindi voi mi avete chiesto, in realtà, come trovare un prezzo più economico per Emirates. In questo momento Emirates offre questa cifra, 2.144, con uno scalo di due ore, quindi è un volo veramente perfetto, con lo scalo di due ore a Dubai e un tempo door-to-door di volo di soltanto 14 ore, scusate, e 30 minuti. Se andiamo a cambiare leggermente le date e ci prendiamo un giorno in più, quindi partiamo il 23 e torniamo l'8 di gennaio, a quel punto vedete che c'è questa ottima soluzione con ETA da 1.610 euro, questo volo di Oman Air, compagnia che ho utilizzato parecchio nell'ultimo periodo, però ha uno scalo lunghissimo, vedete, se lo vediamo, c'è una connection di 15 ore a Muscat, quindi dovete munirvi di molta pazienza, è anche vero che 15 ore di attesa vi farebbero risparmiare qualcosa come 300 euro, poi come sempre, qui come dico sempre, valutate voi quello che volete o potete fare, è anche vero che con 300 euro poi in Thailandia qualche notte d'albergo ve la pagate. E quindi abbiamo quest'altra soluzione con la partenza sabato, rientro lunedì, che può essere valutata. Quello che mi sento di dire è che comunque, ad esempio sulla soluzione di partenza 23, il prezzo ricade nella media perché le soglie sono le stesse e a questo punto avreste un prezzo più in linea con il mercato. Ovviamente la valutazione che fa Google la fa sulla base della tecchia in pancia, nel suo algoritmo, però ci dà un'indicazione del fatto se stiamo comprando in un certo modo o se stiamo stracomprando. Questo è sempre utile farlo, ve lo consiglio perché è uno strumento meraviglioso e soprattutto non costa nulla. Questa soluzione di Home & Air, ripeto, come dicevo prima, valutatela perché sì, 15 ore di scalo sono lunghe, magari però le riuscite a riempire con una visita o semplicemente passandolo al gate e facendo qualcosa, il gap sono 300 euro, lo dovete valutare voi. Ovviamente, ripeto, rispetto, per concludere, all'anno scorso siamo in uno scenario completamente diverso, i prezzi finalmente dei voli si sono ridimensionati e, ad esempio, comprando un biglietto in anticipo, come ho fatto ad esempio io per partire verso fine gennaio, quindi più in corrispondenza verso il capodanno cinese, si possono trovare prezzi molto buoni, tra l'altro io ho acquistato un volo per la Thailandia abbondantemente sotto i 600 euro, ne ho parlato in questo video che vi lascio qui in alto, così potete vedere anche come l'ho acquistato e cosa ho utilizzato per avere anche un ulteriore cashback sui soldi che ho pagato per il biglietto aereo, magari potete utilizzare anche voi questo strumento per avere appunto un ritorno sui vostri acquisti, questo vale ovviamente per tutti i voli che acquistate, non soltanto per quanto riguarda i voli per la Thailandia, insomma vale per tutte le destinazioni che andate poi a visitare. Ovviamente ragazzi, come sempre, fatemi sapere nei commenti qui sotto insomma cosa ne pensate di questi prezzi, di questi biglietti aerei, fatemi sapere anche se avete in mano in questo momento un biglietto per la Thailandia, state pensando invece appunto di acquistare magari in questi dati, sfruttando questa possibilità di un questo volo last minute appunto per la Thailandia, scrivetemi qui sotto nei commenti come sempre cosa ne pensate, ovviamente se il video è stato utile o interessante un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, ovviamente se vi piace anche il canale iscrivetevi per far parte della community, cliccando anche sulla campanellina per non perdervi poi le notifiche quando pubblicherò nuovi video. Direi ragazzi come sempre grazie per aver visto il video fino adesso, ci risentiamo nelle prossime giornate sempre con nuovi video per quanto riguarda la Thailandia, un grande abbraccio, a presto.